Direzione Riva dei Garda Qui dietro c'è il bambino, qua c'è Wendy E andremo oggi a farci una piccola passeggiata Domani invece abbiamo lo stage E niente, vi aggiorneremo e vi faremo vedere la meravigliosa Riva dei Garda Comunque siamo fermi nel traffico Prima a Bologna e ora vicino a Imola credo E un'autostrada a quattro corsie, ci sono i lavori E è stata trasformata in una sola corsia Cioè io mi chiedo per la testa di chi mi dà il via a questi lavori che cosa passa Cerco sempre di non essere critica a riguardo Cerco sempre di non essere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il letto è pronto Grazie a tutti Wow Grazie a tutti